Dopo essere stato adottato da Nigel Fleming, un fotografo di Dungannon, in Irlanda del Nord, il dolce gol del retriever Cooper era scomparso da 27 giorni. La sua nuova famiglia era molto preoccupata e aveva fatto di tutto per ritrovarlo, ma senza successo. Tuttavia, la storia ha avuto un finale sorprendente e felice. Cooper è stato ritrovato nella città dove viveva da cucciolo, a ben 64 chilometri di distanza dalla sua nuova casa. Ancora più sorprendentemente, l'hanno trovato dai suoi vecchi proprietari, che l'avevano abbandonato tempo prima. Nonostante la distanza, Cooper sembrava essere molto felice di tornare nella sua vecchia casa e con la sua vecchia famiglia. E anche se i suoi nuovi proprietari erano un po' delusi di perdere il loro nuovo amico peloso, erano felici di sapere che Cooper era al sicuro e felice. Nonostante la lunga distanza e la difficoltà del percorso, Cooper ha trovato la strada verso casa senza alcun aiuto umano, affidandosi solo al suo istinto e al suo desiderio di tornare dalla sua vecchia famiglia. La sua incredibile avventura ha lasciato tutti senza parole, dimostrando che l'amore e la deltà dei cani non conoscono limiti. Nigel Fleming aveva deciso di adottare Cooper dal canile, pensando che sarebbe stato una compagnia perfetta per il suo altro golden retriever, Molly. Ma quando Cooper scomparve improvvisamente, Nigel fu preso dal panico. Non sapeva dove fosse, e il cane era costretto a vagare senza meta all'aperto, esposto all'acqua e al vento. Nonostante le ricerche disperate, Nigel non riusciva a trovare Cooper. Aveva tentato di inseguirlo, ma il cane era troppo veloce ed è scomparso in un istante. Tuttavia, quando Cooper finalmente tornò a casa sano e salvo dopo il suo lungo viaggio, Nigel non poteva credere ai suoi occhi. Era grato che il suo amico a quattro zampe fosse tornato a casa e prometteva di non lasciarlo mai più andare. Il portavoce di Lost Pose ha dichiarato che Cooper ora è al sicuro e sta ricevendo piccoli pasti per aiutarlo a recuperare la forza e il peso che ha perso durante il suo lungo viaggio di quasi un mese. Nonostante tutte le difficoltà incontrate lungo la strada, Cooper è stato un cane molto intelligente. L'istinto lo ha guidato fino al posto che gli era familiare, dimostrando una volta di più l'incredibile capacità dei cani di trovare la strada di casa. Anche se non si sa come abbia fatto a compiere un viaggio così lungo, il portavoce ha confermato che Cooper è tornato al sicuro tra le braccia della sua vecchia famiglia. Il signor Fleming è andato a riprenderselo e ha dichiarato, ha fatto una cosa incredibile, ma i cani sono incredibili. Adesso spero di aver l'occasione di entrare nel cuore di Cooper per far sì che si senta a casa anche con me. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri due video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.